Immaginabile al premio Josef Ottila, quello più grande ungherese, al premio Accademia Europea di Vienna, al premio Robert Graves, di accento inglese. I suoi versi sono anche in Italia, ad Arpino, a Recanati per vari tipi di decorazione. Come già sapete è allo stesso tempo segretario di Stato per la cultura e delle risorse nazionali ed è un poeta, è già una cosa complessa. Comunque è nato a Morosva-Shar-Hei, che oggi ha un nome diverso, perché quando si parla di Transilvania, bisognerebbe ricordare che Transilvania è il paese d'origine dell'Ungheria nell'Ottocento d.C., poi per vari eventi storici è stata attribuita alla Romania. E qui nacquero poeti come Odi Endre, il più grande poeta ungherese forse, uno dei più grandi. Bartók Bela, Liga Tijör, cioè la grande cultura ungherese nasce in Transilvania. La sua vita è leggendaria e lo segnala come studente universitario a Polo Svar, che oggi si chiama Kluge, ed è redattore delle pagine di cultura di Ekinok, un giornale giovanile, e poi nel 1976 Igor Shag, del giornale giustizia della minoranza ungherese. I guai cominciarono quando fu capo redattore di Ellen Pontok, punti di opposizione che criticavano in modo elegante ma profondo il regime di Ceausescu. A questo punto furono spezzate le gambe, fu perseguitato, e stava per essere eseguito fisicamente quando poeti americani e poeti di tutto il mondo protestarono e fu mandato in esilio. Cerce la Svizzera. Alla caduta del regime dell'89 viene nominato direttore della Radio Libera di Budapest e prende il premio ungherese di lotta per i diritti umani. Poi torna in Romania e viene eletto segretario generale dell'Unione Democratica della minoranza ungherese in Romania e in seguito senatore del Parlamento di Bucharest, carica che tiene per un paio di anni. Poi quando ottiene il premio teatrale della Società degli scrittori romani, ancorché lui scrive sempre in ungherese, lascia l'incarico per motivi e che la politica locale sembra leggermente corrotta, ma mi sembra, almeno così mi disse. Comunque giornalista, facendo un tracciato breve, giornalista, traduttore, politico patriota, persino editore, lui è protagonista di una nuova scrittura metamorfica in modo di dare al mondo, all'immaginario umano, un nuovo tempo, un spazio mitico dove le culture si fondono per custodire momenti significativi dell'avventura umana. Un esempio è il suo libro, ma il suo libro è sempre complicatissimo, non è un libro semplice e diverso. Il libro che in italiano suonerebbe l'ospitale, ovvero Simbad a Marie-Embard nel 92, dove vedete come rima Simbad Marie-Embard, ma sono mondi così diversi, c'è il mondo del Mille e una notte e il mondo del regista Resne, l'anno scorso a Marie-Embard del Nouvelle Vague francese. Quindi, senza entrare nel dettaglio, la sua poesia, la sua scrittura crea delle corrispondenze significanti col mondo storico, ma anche sulle varie forme di espressione artistica. In questo libro addirittura c'è per esempio l'apparizione di Siddhartha, che tutti ricorderete di Hermann Hesse, che in qualche modo litiga con Rosgoni Simon, un ungherese del 1444, caduto contro l'impero turco a Varno nel 1444. 1444, 1444. 1444,